La sua corsa per quanto riguarda la candidatura di Lorenzo Remorici a sindaco. Una lista della continuità ma vedo anche volti nuovi. Sì, assolutamente. Allora c'è una continuità quasi totale ma ci sono anche giustamente delle persone nuove perché la lista deve progredire, si deve allargare e il gruppo sostanzialmente è un gruppo solido e compatto. Le 30 persone che hanno costituito la lista nel 2019 sono sempre tutte coese con noi e queste persone nuove si aggiungono al gruppo nato nel 2019 e che cresce sostanzialmente sempre di più. E questo è un dato positivo per il nostro territorio perché la gente ha capito il nostro progetto e il progetto che vogliamo portare avanti sono sicuro che se la gente lo capirà arriverà senza problemi fino al 2024 anche con nuove cose che abbiamo in cantiere. Si trova scritto rafforzare la propria identità e quindi agire nel bene comune. Sostanzialmente sì perché quando si rafforza la propria identità e si agisce nel bene comune la gente sostanzialmente capisce quello che vuole fare perché noi siamo stati eletti dal territorio perché la gente ha creduto in noi e ha visto nelle nostre persone, nel nostro modo di fare un qualcosa di positivo per poter sviluppare nel migliore dei modi il nostro territorio. Grazie. 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 Grazie.